No, non hai il ciuffo storto, sei sempre figo, Marcone, siamo qui nello studio di Marcone, troppo bello questo studio, dovete venire qua ad allenarvi, racconto un po' com'è la modalità qui? C'è l'allenamento one on one, potete venire, contattate il sottoscritto, gli assistenti e si allenano. Esatto, potete venire anche col vostro personal trainer, venite qua, vi iscrivete oppure vi fate allenare da questo ragazzo. Tra l'altro oggi su Iron Ciappetta c'è l'allenamento. Nuova lezione, della nuova programmazione. Bye. Ciao. Ciao.